La voce che meglio rievoca gli animi delle persone sono le immagini e noi di Erasing Photos ci occupiamo di questo diffondere la concrevenza dei fatti e aprire gli occhi alle realtà contemporanee Il nostro obiettivo è quello di rendere partecipi le persone a ciò che succede nel mondo, nel nostro impegniamoci tutti per renderlo migliore il futuro del pianeta è nelle nostre mani usiamo le del piantare un zeme piuttosto che per strappare un fiore